A quanto pare si tratterebbe di un ride intimidatorio che potrebbe essere collegato agli episodi avvenuti negli ultimi giorni. A giorni poco distante, tra cui gli spari contro un garage. La vettura non ha preso fuoco completamente, ma a quanto pare solo gli interni. La vettura non ha preso fuoco completamente, ma a quanto pare si tratterebbe. La vettura non ha preso fuoco completamente, ma a quanto pare si tratterebbe. La vettura non ha preso fuoco completamente, ma a quanto pare si tratterebbe. La vettura non ha preso fuoco completamente, ma a quanto pare si tratterebbe.